ciao amici del tempio ciao a tutti benvenuti nel mio canale volete potenziare il vostro usciro gheri seguitemi per fare degli ottimi usciro gheri vi farò vedere cinque esercizi eccezionale per avere un usciro gheri micidiale allora amici del tempio per potenziare il vostro usciro gheri io faccio in maniera molto semplice lega un elastico a un qualcosa in questo caso l'ho attaccato a un saccone potete attaccare nella strelliera se ce l'avete qualsiasi cosa l'intensità dell'elastico ve lo dosate voi chiaramente più lo accorciate più è forte più aumenta la tensione questo diciamo una cosa media anche dimostrativa per farvi vedere oggi vi piazzate in posizione normale sci zentai e poi potete fare diversi tipi di esercizi tanto partite col caricamento quindi questo tipo di movimento che è il caricamento dello usciro gheri potrebbe essere anche il caricamento del magheri comunque questo allenamento è ottimo per allenare bene il caricamento poi iniziate mezzo calcio quindi da qua mezzo calcio ok quindi questo tipo di allenamento sempre mantenendo l'usciro anche della guatia e poi provate a fare l'estensione della gamba quindi provate a fare l'intero calcio sci rogueri piazzatevi bene poi stendo ok potete fare 10 volte 10 gamba destra 10 gamba sinistra vari con serie da 3 ok 10 10 10 intanto iniziate con questo un altro esercizio che consiglio è l'estensione all'indietro per allenare lo sci rogueri però con la gamba tesa quindi piazzatevi bene poi a gamba tesa fate questo movimento sempre col piede a martello una sorta di guardia sempre che vi segue e qua si rinforza molto lombali i muscoli della schiena e i muscoli del gluteo quindi bene stendo questo questo vi aiuta tanto per l'estensione del calcio un altro esercizio eccezionale è per rafforzare il bicipite femorale sempre legate il piede a qualcosa con un forte elastico e poi tirate forte verso di voi sempre col piede a martello destra e sinistra 10 ripetute per gamba tre volte ok ok ragazzi un altro ottimo esercizio per rafforzare il caricamento sia per lo sci rogueri che per il my gheri è questo anche qua 10 volte per gamba 3 serie da 10 ok ultima ultimo esercizio posizioni al cagnolino per quattro zampe così e poi spingete bene all'indietro guardando sempre il piede dove va più che altro avendo sempre bene con la cosa dell'occhio la visione del tallone e anche qua 10 movimenti destra sinistra per tre volte amici del tempio spero che in questo video vi sia aumentata la voglia di perfezionare il vostro sci rogueri oggi vi ho fatto cinque esempi 5 allenamenti con elastico per poter avere un enorme potenza sullo sci rogueri sono anche altri esercizi validi ancor più validi o ancora più numerosi per poter fare per lo sci rogueri per aumentare la sua potenza questi cinque sono un valido esempio secondo me per per avere un buon sci rogueri però che questo video vi sia piaciuto mettete un like iscrivetevi al mio canale ciao al tempio massimo